bentornati cari amici del canale avevo già fatto un video giusto ieri oggi sono le ore 14 e 30 dell'8 maggio 2018 martedì l'avevo fatto ieri mattina lunedì 7 maggio purtroppo però c'è stato un problema tecnico che mi auguro non si ripresenterà oggi con questo video capite bene che questi video in realtà sono più che altro degli audio in cui c'è come sfondo un articolo che viene commentato poi non solo l'articolo si commenta ed era sparita completamente la voce quindi non so il motivo forse si era staccato non c'era un contatto fatto bene non lo so spero che non si ripeterà anche perché se no già ci ho speso 40 e passa minuti l'altra volta non mi va di perdere altro tempo se lo state ascoltando si vede che è andato tutto liscio ho ancora un po di mal di gola forse si sente forse no comunque non lo dico ogni tanto farò magari una pausa per bere come adesso e le cose si sono ulteriormente volute rispetto a ieri mattina per fare una sintesi molto molto sintetica per l'appunto ad un bravo l'ipotesi che da me favori diciamo la seconda favorita sarebbe poi vi dirò quale sarebbe la prima nella formazione del governo finalmente ci si accordasse con i cinque stelle e questo vaticinano con un appoggio esterno di forza italia mentre fratelli d'italia che comunque consiste in una pattuglia non piccolissima ma importante per avere una maggioranza solida sia di senatori che nei deputati ma con un appoggio esterno di forza italia che avrebbe anche potuto risolversi con una migrazione di personaggi che in qualche modo avrebbero potuto mantenere una doppia fedeltà migrando non dico fintamente però in accordo ecco mettiamola così in accordo con berlusconi nella lega e assumendo quindi delle posizioni di governo magari non necessariamente di primissimo piano ma nei sottosegretariati nelle nomine varie che poi e così avrebbero un po aggirato il problema mentre forse italia nel suo complesso avrebbe comunque potuto garantire il supporto esterno così si sarebbero salvati capra e cavoli ovviamente questo avrebbe dovuto essere non seguito ma questo dovrebbe dovuto essere il seguito di un accordo soprattutto che metteva avrebbe messo al sicuro le attività imprenditoriali di famiglia di berlusconi perché se ricordate bene le parole di di maio sulle televisioni sul cosiddetto conflitto di interesse cose che il partito democratico non tirava fuori non tira fuori oramai da anni capite che c'è ancora esiste un problema da quel punto di vista c'è un rischio è uno finché in politica è sempre un po a rischio se perdi i rischi di perdere tutto però questo scenario quanto sembra non non si realizzerà quindi inutile continuare a parlarne questo titolo che io darò al video cioè neologismi un governo di servizio non sanno più come chiamarli governo tecnico che però vedete questo fatto che io rimarco sempre no lo slittamento semantico siccome governo tecnico quello di montiana memoria è nella memoria collettiva degli italiani governi ricordato in maniera pessima non abbiamo più governi tecnici ora si parla di governo di tregua governo di servizio o governo di scopo comunque sia governo del presidente il problema qual è che anche un governo del presidente deve raccogliere voti in parlamento se no non si muove lo nomini va bene ma rimane inchiodato perché noi abbiamo un sistema che lega mani e piedi legislativo ed esecutivo ecco avevo fatto questo discorso la volta scorso il ieri l'avevo fatto però va la pena di riproporlo in realtà una democrazia veramente compiuta uno stato voi sapete che nello stato ci sono i tre poteri fondamentali esecutivo legislativo e giudiziario poi vabbè ci sono il quinto potere il quarto potere la stamp vabbè siamo per i tre poteri però istituzionali sono questi e dai tempi di monteschi insomma non da oggi si ritiene che una democrazia veramente compiuta debba vedere completamente separati questi poteri ora è vero che quella volta si si fondava questo assioma questa regola sul fatto che non dovessero concentrarsi su un'unica persona sul sovrano più o meno illuminato o assolutistico o dispotico ma questo vale anche quando i poteri si confondono in un'assemblea o peggio in un apparato burocratico andiamo a vedere quali allora noi italiani votiamo solamente di questi tre poteri solamente il legislativo questo deve essere chiaro perché l'esecutivo se lo vota se lo votano loro se lo votano i rappresentanti se lo vota il legislativo che nomina un esecutivo noi cittadini noi elettori non abbiamo più voce in capitolo sull'esecutivo lo abbiamo in maniera indiretta sul invece il potere giudiziario non abbiamo nessun tipo di voce in capitolo nessuno perché è un potere auto referenziale che si rinnova con i concorsi pubblici allora voi direte è vabbè ma per fare il giudice per fare il procuratore per fare comunque sia l'avvocato dello stato in poche parole non ci può andare un picco pallino qualsiasi che prima vendeva bibite allo stadio no serve una preparazione serve dell'esperienza servono le cosiddette certificazioni va bene sicuramente serve una conoscenza del diritto ma nulla vieta che si possano mettere dei requisiti per essere come elettorato passivo d'altronde c'è il requisito dell'età ad esempio faccio solo un esempio non c'è solo requisito dei 18 anni per l'elettorato attivo tu per essere eletto passivamente alla camera devi avere almeno 25 anni per essere eletto al senato ne devi avere almeno 40 per essere eletto presidente della repubblica ne devi avere almeno 50 faccio solo degli esempi io spero quindi che arriveremo finalmente un giorno a votare anche il sistema giudiziario a votare i magistrati a votare i procuratori i sostituti procuratori eccetera eccetera così chi non si comporta male cioè chi non si comporta bene chiedo scusa che libera il giorno dopo pericolosi delinquenti che siano spacciatori che siano picchiatori che siano cioè guardate adesso l'esempio di cronaca ieri non era è successo cioè è successo a pasqua ma si è saputo io perlomeno l'ho visto sul come tutti penso sul telegiornale all'ora di pranzo dell'una quei soggetti non farò nomi perché figuriamoci siamo talmente liberi siamo in una democrazia talmente compiuta che non si possono fare i nomi ma pensa tu i soggetti che con tono mafioso ma sarebbe veramente stupiremo del contrario hanno picchiato selvaggiamente una disabile ma anche se fosse stato un uomo non perfettamente abile così così come il barista del resto che è stato anche lui picchiato perché volevano essere serviti e subito subito è non si carla lì non era certo il primo atto di delinquenza pensiamo alla gente che veniva ce ne sono talmente tante c'è solo l'imbarazzo della scelta vi tiro fuori i primi che mi vengono in mente tu metti ad esempio vendi la tua auto il tuo veicolo metti il tuo nome cognome indirizzo numero di telefono per incontrarvi con un potenziale acquirente fargli vedere la vettura mettersi d'accordo sul prezzo ecco arrivano questi soggetti ti minacciano ti picchiano ti sequestrano ti obbligano con la forza a suon di pugni a suon di di legnate a firmare l'atto di proprietà che devi anche pagare oltretutto al pubblico registro per il trasferimento di proprietà non basta non solo in più ti rubano il denaro contante nel portafogli ti portano cortesemente altro quindi sequestro di persona continuato al al banco matta per farti per elevare il massimo possibile in un giorno che sono che io sappia 600 euro lo so solo perché anni fa purtroppo subì un furto tramite banco matta e quindi quella cifra che era la massima prelevabile mi prelevarono e nonostante che ci fossero le registrazioni delle videocamere come in tutti i banco matta non si venne a capo di nulla sono passati 9 anni quindi oramai ma non adesso da un pezzo ecco ci sono voluti 40 giorni da quant'è che c'è stata pasqua e solo quelli erano liberi solo perché c'è stato il clamore mediatico se no nessuno si sarebbe mosso ma possibile come diceva una donna che gli è morta alla figlia proprio pochi giorni fa che si è scantata con la moto su una radice di che usciva fuori dalla strada ma possibile che non so se solo in italia probabilmente un po dappertutto ma in generale possibile che solo quando ci scappa il morto quando c'è il clamore mediatico si debba fare qualcosa questa gente che ha vinto un concorso agisca poi magari per altre cose invece perché tu parli attraverso un o scrivi ancora peggio cioè che poi è uguale agiscono subito perché dici qualcosa che che sta scomodo che non dovrebbe essere detto devi sempre camminare così sulla lama di un rasoio su un in punta di dita di in punta di piedi e poi invece questi siccome vuoi andare a scomodare questa gente non è pericolosa lasciamoli perdere poi c'è tanto da fare quanti milioni di cause pendenti ci sono e poi soprattutto se a commetterli sono delle cosiddette minoranze sapete com'è il l'atmosfera no politica e sociale se c'è una certa atmosfera politica e sociale si tendono ad usare guanti più o meno bianchi più o meno di velluto a seconda di chi li commette ma questo vale in ogni senso ad esempio non mi stupirei affatto anche sebbene non conosca casi non ho studiato casi di cronaca ma pensiamo alla germania nazista dopo il 33 io non mi stupirei affatto se andando a guardare qualche caso di cronaca dell'epoca un reato violento furto commesso da un cittadino tedesco di pura razza ariana verso un cittadino mi hanno pure tolto la cittadinanza o messa di serie b eccetera tedesco comunque ebreo sarebbe stato probabilmente messo molto in secondo piano mentre un reato commesso da un cittadino ebreo avrebbe avuto tutti gli onori della cronaca con immediata attivazione degli organi incompetenti ecco quindi io non faccio assolutamente un caso di di razzismo o di questo è bene è bene dirlo ma semplicemente di giustizia in questo caso purtroppo il razzismo è al contrario e cioè se un cittadino italiano si permette di dire qualcosa che non gli sta bene e va un pelo oltre le righe cioè ad esempio il caso io ne ho parlato del caso di pamela mastro pietro perché allo stato non piace che tu dica quello che pensi di tutto quello che è successo poi successivamente non mi fate fare i nomi o eventi perché c'è questa questa atmosfera socio culturale e chi la crea la creano una massa di soggetti che potete ben immaginare il mio pensiero che non posso esprimere altra limitazione della libertà che altrimenti ti colpiscono duro giornalisti insomma anche incaricati di svolgere incarichi istituzionali non eletti però che non devono rispondere a nessuno nemmeno al potere legislativo perché ad esempio l'esecutivo deve rispondere al potere legislativo il potere giudiziario no solo in questo senso loro intendono la separazione dei poteri ma i poteri devono anche essere devono scendere dal popolo non devono essere autoreferenziali ecco perché la mia prima vedete che mi ricollego non sono cose dette a caso la mia prima ipotesi preferita stranamente simile a quella di renzi anche se lui probabilmente per un tatticismo io invece per un reale una reale strategia che vorrei vedere in questa campata finalmente l'italia con una repubblica semi presidenziale dove si vota il capo dell'esecutivo che è anche il capo dello stato dove o perlomeno un capo dello stato con ampi poteri in politica estera e in politica militare e poi può anche nominare un capo del governo che però è dipendente da lui così come il governo stesso cioè la serie dei ministri e un corpo giudiziario elegibile da parte dei cittadini con tutti i requisiti gente che ha ovviamente la laurea in giurisprudenza ha svolto anni di attività legale quello che volete vogliamo fargli fare anche un concorso pubblico a me non interessa ma interessa che non si elegano non si nominino tra di loro ma che siano i cittadini ok e speravo che questa legislatura vista la composizione potesse essere un buon viatico però probabilmente i 5 stelle sulla riforma della giustizia visto che per loro la giustizia è sacra e sacro santa così com'è difficilmente ci metterebbero le mani e i voti e non credo che abbiano in simpatia nemmeno il semipresidenzialismo o presidenzialismo che sia visto che per loro il parlamento è tutto per carità è importantissimo ma non è tutto e lo si vede senza un governo per quanto noi abbiamo sempre avuto governicchi dipendenti da maggioranze parlamentari più o meno variabili vediamo che esistono dei problemi allora il presidente per uscire però da questa impasse presidente anche lui non è letto se non da pensato è una maggioranza abusiva ed incostituzionale con che era tale grazie al premio mostruoso che con il 29 per cento dei voti gli ha dato il 55 per cento dei seggi alla camera alla sinistra come al solito naturalmente per noi un presidente della repubblica di destra è impossibile lo disse anche da lei ma per fortuna la maggioranza l'abbiamo sempre avuta voi noi beh forse stavolta quando scadrà mattarella non ce l'avrete però ne lo auguro infatti il partito democratico anche l'unico entusiasta di questo governo tecnico di scopo di servizio perché perché sanno benissimo che continuerebbero con continuerebbe con le politiche che hanno fatto loro sarebbe a vocazione europeista istituzionale per loro istituzionale quello che continua esattamente con questa politica di merda che hanno fatto fino adesso di cessione costante della sovranità loro voi avete sentito mai parlare gentiloni le parole sono pietro l'avete sentito bene non ha mai parlato di interesse nazionale mai lui questo carissimo gentiloni parla sempre di interessi generali del paese questa è la sua formula e c'è una bella differenza da interesse nazionale interessi general generali che significa nei generali può essere l'interesse anche quindi dell'europa tanto sicuramente a lui cara degli immigrati di sicuro l'interesse nazionale rappresenta un'idea di l'italia molto diversa le parole non sono a caso anche se spesso possono sembrarle e a volte vengono utilizzate per imbrogliare un po l'ascoltatore meno meno scafato ecco meno smaliziato comunque questo governo di scopo loro vorrebbero potessero farlo andarlo avanti sine die cioè senza una fine predeterminata importante sarebbe che avessero i voti per fortuna forza italia nel partito democratico insieme non hanno i voti e allora qui c'è una mia delusione personale cioè io non volevo crederci sinceramente a tutte quelle voci che dicevano prima delle elezioni che in caso si sarebbero messi insieme per fare questa grande coalizione il governo di salvataggio della patria ma quale patria un governo salvataggio della patria che continua a servire una capitale straniera non mi sembra proprio non mi sembra proprio per fortuna non hanno i voti forse italia vorrebbe ma non può la lega ha dimostrato di essere fedele e ho spiegato i motivi per cui lo è ovviamente c'è un tatticismo da parte di salvini e non vuole andare da di maio con la metà dei suoi voti dei suoi anche se un po più di parlamentari rispetto alla metà non vuole andare lì a fare in semplicemente un ministro anche se fosse il ministro degli interni con un presidente del consiglio di maio non vuole spezzare la catena che lega con forza italia ben sapendo che rendendosi colpevole di un tradimento forza italia si arroccherebbe i suoi elettori quelli più moderati quelli più attaccati ancora berlusconi a forza italia difficilmente poi trasformigliere trasformiglierebbero ed è questo che vuole salvini non è solo il discorso perché lui li conta con 37 per cento e quindi supera di maio e di là invece conterebbe meno ma è perché se lo vuole pappare e non potrebbe farlo invece così forza italia non avendo voti a sufficienza anche se fosse assieme al pd assieme a quei quattro scalzacani del gruppo misto compresa la bonino non gli bastano se no probabilmente almeno la maggior parte del partito ci andrebbe berlusconi vorrebbe farlo berlusconi è diventato un governista io in parte lo capisco anche se non lo giustifico l'età avanzata le ambizioni diminuiscono la stanchezza aumenta cerca di si piega magari alle pressioni esterne in particolare quelle della famiglia e dell'azienda sono fortissime è chiaro l'azienda e la famiglia lui ha più a quanto ha 82 anni quest'anno mi sembra ma la famiglia se la vuole godere l'azienda tutte le aziende il figlio ha 41 anni 42 la figlia una 45 o 50 non lo so comunque diciamo relativamente giovane e l'azienda deve andare avanti è chiaro che vogliono rimanere attaccati al potere al governo in qualche maniera non direttamente ma comunque amici di questo potere perché se no rischiano e allora berlusconi si è un po adagiato sugli allori cerca allori in realtà non c'è nessun alloro su cui adagiarsi perché è stata fondamentalmente una sconfitta quella partita dopo il 2011 però cerca probabilmente di accreditarsi in maniera tale da risultare come dire affidabile anche da parte di quelle di quei potentati con cui ha visto si rischia mettendosi contro di essi soros solo la punta dell'iceberg ma in realtà ce ne sono molti altri insieme movimentano qualcosa come migliaia di miliardi di dollari o di euro dollari se preferite movimentano le azioni degli stati Gheddafi ci ha rimesso la vita tanto per dirne uno il presidente ucraino è in esilio in Russia assad fa quello che fa e quindi è un rischio continuo in una in uno stato europeo meno probabile che si finisca in questo ma non impossibile non pensiate che la guerra guerra civile o invasione esterne per motivi sempre umanitarie per carità siano così siano così impossibili possono esserci dipende dalla gravità della situazione ma diciamo che per uno come Berlusconi il rischio maggiore sarebbe quello di finire non dico sull'astrico ma perdere le attività per cui ha dedicato tutta la vita e che ovviamente vuole lasciare a figli e nipoti quindi a mio parere c'è questo dietro il suo comportamento però c'è Salvini lui adesso non ha i numeri per andarsene dall'alleanza con Salvini se lo facesse avrebbe un doppio scorno la lega si ritroverebbe libera farebbe subito il governo con i 5 stelle e probabilmente anche con fratelli d'italia così si bilancierebbero un po perché lega più fratelli d'italia è vero che non raggiungono come percentuale i 5 stelle però come parlamentari siamo lì sono ancora un po in vantaggio i 5 stelle è vero ma siamo lì contate però che una cosa di questo genere comporterebbe di sicuro una serie di transfugi da parte di forza italia e ve lo dico perché anche a livello locale so per certo che è già iniziato l'esodo è un esodo importante di dirigenti non solo di elettori quindi non è escluso che forza italia se facesse non seguisse ma sarebbe folle perché non non avrebbero i numeri lo farebbero se avessero i numeri ma non ce li hanno non seguisse Salvini e anche a testa a china se però non lo facesse verrebbe azzoppata di quei cento parlamentari per lo meno alla camera adesso non ricordo esattamente io credo che 20 o 30 almeno almeno ne perderebbe e allora le cose si riequilibrerebbero ancora meglio con i 5 stelle ed è questo che di maio non vuole perché di maio vuole il governo si è vero che lui detto si fa da parte ma lui comunque vuole che i 5 stelle siano una forza prioritaria e vuole che questa questa prima zia venga mantenuta se dall'altra parte vabbè la lega al completo forza dei fratelli d'italia già non voleva neanche loro infatti non era solo forza italia poi si è ammorbidito ma non voleva neanche fratelli d'italia per questo motivo poi altri da forza italia transfughi perde in quel in questo frangente la supremazia però c'è una maggioranza ben solida ci sarebbe e non ci sarebbe berlusconi questo atteggiamento di Salvini peraltro volevo farvi vedere proprio non ho analizzato per filo e per segno l'articolo perché volevo parlare un po' così liberamente però è questo l'importante che il carroccio è dato al 24,4 per cento aveva il 17 per cento e sta aumentando ovviamente in gran parte sono voti di forza italia come si vede ma anche dei 5 stelle in parte che perdono qualcosina dice il pd guadagna 0,3 punti arriva al 19 ci credo poco perché però forse sapete il pd con questo atteggiamento istituzionale perché oramai il partito comunista poi pd eccetera ha plasmato questa nazione lo stato meglio la plasmata e quindi ora sono loro le istituzioni sono istituzioni che a tutti noi schifano ma le hanno create loro perché sono stati votati anche se non hanno ottenuto il governo per decenni comunque sia la democrazia cristiana non ha mai impedito che tutto il sottobosco pensate all'insegnamento la grandissima parte sono di loro sono proprio palesemente di loro la magistratura la l'escrescenza magistraturale che hanno il loro parlamentino con le varie correnti e partitelli si chiama magistratura democratica che prende ogni volta più del 60 per cento quindi significa che più del 60 per cento dei magistrati vota partito democratico poi a livello nazionale un partito che a meno del 20 per cento ma vi rendete conto che che offesa alla democrazia che un potere dello stato uno dei tre poteri dello stato non rispecchia assolutamente l'opinione pubblica e qui ritorniamo al discorso che ho fatto inizialmente ma su cui adesso non mi soffermerò oltre invece volevo dire che l'atteggiamento di salvini per quanto è facile per i grillini dire tu dovevi abbandonare berlusconi tutti venire che ma cosa per cosa così perdeva la faccia perché aveva aveva rotto avrebbe rotto un accordo avrebbe perso i voti di forza italia che si sarebbe arroccata e altro che questi punti qui avrebbe guadagnato forza italia offesa da un tradimento avrebbe perso la possibilità di mangiarsi forza italia avrebbe perso probabilmente anche da quel 17 per cento e bel poi certo che i 5 stelle volevano i voti in parlamento di senatori e deputati leghisti ma è bello come mi disse uno che poi tra l'altro il dirigente qui locale delle marche della lega andare a mulino con una frase contadinesca andare a mulino con la farina degli altri no no non si fa così non si va a mulino con la farina degli altri e questo atteggiamento ha pagato ha pagato in friuli venezia giulia primo partito con 35 per cento crollo completo del movimento 5 stelle che ridotto al 7 per cento il suo candidato ha preso l'undici hanno preso insieme più del 55 per cento tutta la coalizione d'accordo il nord parliamo del nord il friuli benissimo in molise in molise il movimento 5 stelle aveva quasi 50 per cento da solo eppure ha perso si vede che non la tattica di maio non ha avuto tanto successo a parte ovviamente certo gli attivisti quelli non li smuovi appunto gli attivisti solo con una guerra con quando perdono magari i loro beni loro cari allora forse cambia un'idea ma se no difficilmente cambia un'idea ma gli attivisti sono poche migliaia o decine di migliaia gli elettori la ciccia degli elettori sono quelli che si vanno a votare così perché vogliono un cambiamento perché qualcuno gli fa una promessa che gli fa comodo ma in realtà mi spiace dirlo ma la realtà delle cose non capiscono molto delle dinamiche e questo è uno dei motivi per cui io faccio video di questo genere in cui non mi interessa farmi vedere con la cinematica no non faccio nulla di tutto questo l'importante che arrivi il messaggio che arrivi la voce anche se un po roca in questo caso per cercare di far capire come funzionano un po le cose perché il voto è una cosa importante l'ho sempre detto per il cittadino il primo diritto è quello di scegliere i propri rappresentanti e governanti e giudici tre poteri legislativo esecutivo e giudiziario il secondo diritto è quello del sacro santo diritto alla legittima difesa e alle armi quindi perché la legittima difesa si fa solo con i moltiplicatori di forza si fa con le armi tu non puoi chiedere ad un anziano ad una donna magari anziana anche lei o comunque una persona non abituata alla rissa di difendersi con le mani o che magari una persona che pesa 50 60 o che 70 kg che sia di difendersi con le mani da uno o più energumeni che pesano 100 110 kg 120 kg che sono abituati a picchiare duro che legittima difesa è non è legittima difesa significa consegnare mani e piedi ai delinquenti che poi magari oltre ad essere più forti fisicamente si armano che poi si armino con spranghe bastoni coltelli o anche armi da fuoco cambia relativamente si dice sempre qui apro una piccolissima parentesi si dice sempre che è la persona debole no l'anziano appunto quel caso schifoso sceno che ho visto qualche settimana fa un anziano finito in coma spero che se la cavi ma non lo so picchiato con due montanti in pieno volto così lui aveva le buste della spesa sotto casa nel davanti al portone di casa finito a terra battuto la testa gli ha portato via il portafoglio per pochi euro cioè e voi pensate che ci si possa difendere a mani nude quella legittima difesa questa volete ma questa assurata non la mettere per niente che legittima difesa è se mi devo dire certo ma ma chi è che non si difenderebbe persino il più non violento non starebbe a prendere le bastonate il problema è che non ce la fai a difenderti con le mani non ce la fai solo un moltiplicatore di forza e la deterrenza che questo causa perché se allora innanzitutto se io vado a commettere un reato supponiamo che allora mettiamola così soprattutto per le persone qui sto antipatico no qui non piace quello che dico ma in generale qualsiasi cosa dicessi gli sto antipatico a prescindere benissimo se io entrassi in casa vostra di notte di giorno non importa scardino la porta con voi dentro voi mi accogliete a braccia aperte giusto di telefono ai carabinieri e io prima che tu telefoni i carabinieri ti prendo il telefono e lo spacco e magari ti do anche una botta in testa con una spranga di quelle esagonali che pesano 5 kg luna tu non ti difendi io penso di sì penso che nella tua mente verrebbe verrebbe quel pensiero che io dico sempre cioè che mettendosi fuori legge credendo qualcuno tu in quel momento stesso perdi il tuo diritto alla vita stessa lo perdo perlomeno lo metti a rischio perché dall'altra parte c'è un'altra persona che ovviamente deve tutelare la sua integrità e per farlo deve prenderti incapace di nuocere e per renderti incapace di nuocere ti potrebbe fare del ma anche molto male in maniera letale questa è la legittima difesa ma per farlo servono anche degli moltiplicatori di forza ok andatelo dire adesso non ricordo il nome però un anno fa mi sembra gennaio febbraio di un anno fa un giovane poi parliamo più giovane di me mi sembra che avesse 35 36 anni subì una rapina in casa e nel garage nell'autorimessa uscì fuori con il padre il cognato adesso non ricordo esattamente però mi è rimasto impresso questo fatto di cronaca nella zona del bresciano sperando che questi se ne andassero no assolutamente anzi gli aggredirono i padroni pestandoli selvaggiamente e quello che ci rimise di più fu questo giovane una persona giovane in forma atletica magari non non un armadio ma comunque sia un giovane e che non si sa bene se lo colpirono con appunto un pesante piede di porco un cacciavite ficcato in testa fatto sta che questo povero ragazzo da allora in coma non si muove ha bisogno di assistenza 24 ore su 24 e non si sa se si risveglierà perché purtroppo quando succedono qui quando ci sono i comi da trauma cranico in questo caso gravissimo un po come è successo a schumacher grande campione di formula 1 o ne esci entro breve o più passa il tempo e più diventa improbabile uscirne quasi dopo anni diventa quasi impossibile a parte casi veramente eccezionali e se ne esci se ne esci ne esci quasi sempre con gravi danni neurologici permanenti quindi non sarai più normale ma basta solo pensare alla muscolatura stai fermo un mese in un letto può essere atletico e muscoloso quanto vuoi diventerà veramente non voglio nemmeno descriverlo pensate un anno a stare lì fermi diventi riconoscibile e questo perché perché ha osato cercare di spaventare di impedire di essere rapinato di essere derubato ecco perché sostengo che il diritto alla legittima difesa armata sia un fattore fondante dell'essere cittadini non sto parlando a caso non sto aprendo parentesi per poi non richiuderle mai più e scollegati da quello che ho detto prima sono partito dal dire che cosa significa essere cittadini e due cose fondamentali poi ce ne sono altre per carità di dio ma le due cose fondamentali sono voto dei propri rappresentanti del proprio governo e dei propri giudici che devono giudicarti e difesa legittima armata ok torniamo a parlare mi ero fermato sul discorso molisano in molise i 5 stelle avevano preso quasi il 50 per cento da soli hanno perso anche lì e anche parecchio il molise faceva parte di quella strana conformazione arancione che sembrava il regno delle due sicilie no io in un commento avevo scritto non si può pensare di governare l'italia senza il centro nord innanzitutto per un fatto demografico perché 35 milioni di italiani stanno da roma in su con tutto il rispetto per i meridionali e il meridione però è così secondo luogo perché senza il nord in particolare l'italia non va l'italia non funziona la popolazione è al 60 per cento o 65 per cento al centro nord purtroppo anche il sud si sta spopolando il nord si sta ripopolando solo grazie agli immigrati e non meridionali ma extra europei ahimè il sud invece che ancora non attrae molto a parte qualche località dove c'è bisogno di degli schiavi raccogli pomodori si sta spopolando perché hanno assunto le abitudini di fare pochi figli come il nord rispetto come invece 30 anni fa non c'è però quella attrattiva economica che porta ma da una parte è meglio perché l'italia comunque sovra popolata però si crea un ulteriore squilibrio ma anche da un punto di vista economico dicevo se il 60 65 per cento della popolazione da roma in su attività produttiva è ben oltre credo il 70 per cento non puoi pensare di fare un governo con contrario alle migliori forze produttive della nazione deve esserci un accordo il sud ha tantissime eccellenze come si usa dire oggi no la puglia è la cosiddetta locomotiva del sud la campagna anche ci sono grandi attività sia industriali che agricole la sicilia ha un'importanza geopolitica incalcolabile perché sta lì ma da sempre perché sta lì in mezzo al mediterraneo e divide mediterraneo orientale a quello occidentale ci sarebbe tantissimo da da fare però serve un governo politico un governo che rimetta l'italia al centro dei suoi interessi e non l'europa più europa è certo più europa perché sapete che domani sarebbe il giorno dell'europa ecco io invito tutti magari non dico a cambiare profilo a mettere foto condividere no sui vostri sulle vostre reti sociali chiedo scusa però invito a scrivere un commento il cui senso potrebbe essere un fottile europa magari se volete scriverlo in maniera più edulcorata una critica va bene lo stesso perché quest'europa assolutamente va getta cioè non è che va cambiata va gettata va gettata questo governo di servizio che vogliono fare sarebbe semplicemente l'ennesima marchetta all'europa continuerebbe il transito dei clandestini dall'africa ma come la lega guadagnato dal 3 per cento di bossiana memoria del 2012 al 17 per cento abbiamo visto i sondaggi lo danno al più del 24 per cento in gran parte perché la gente si è veramente stufata di mandare le navi a prendere questa gente che poi viene sfruttata come schiavi dall'industria dal commercio e da come manovalanza criminale e poi si auto organizzano ci sono delle delle cose che veramente fanno tremare i polsi l'ha detto un procuratore sì uno dei procuratori che io critico per come non eletti ma comunque li abbiamo e quindi bisogna rispettare quello che le loro sentenze quello che fanno e che dicono benissimo allora sentiamolo tu sentiamole tutte non solo quelle che fanno comodo i buonisti il riferimento a quell'aggressione pestaggio selvaggio di un poliziotto un poliziotto neanche un cittadino comune permesso che non c'è nessuna differenza anzi cittadino comune dovrebbe essere anche più tutelato proprio perché è disarmato e non ha funzioni di di polizia giudiziario di pubblica sicurezza un nigeriano sempre loro sì ma non solo loro che beccato in treno senza biglietto ha cominciato a dare scandescenza picchiare il controllore un poliziotto andate a vedere la notizia proprio di ieri o di oggi non ricordo se credo che sia successo ieri un poliziotto forse in borghese non lo so sia qualificato come tale ed è stato poi aggredito da dieci nigeriani finito in ospedale questo mi ricorda anche un caso che è successo recentemente in germania dove dovevano espellere un delinquente richiedente asilo e non ce l'hanno fatta due o tre pattuglie non ce l'hanno fatta perché facevano il nel nella struttura dove c'erano ci sono questi criminali africani hanno inscenato una vera e propria guerriglia con quello che avevano tra le mani non armi ancora per fortuna ma comunque sufficiente per resistere a tre pattuglie della polizia tedesca che poi sono dovuti tornare in duecento duecento in tenuta antisommossa per prendere d'assalto il centro e prendere questo soggetto cioè ma voi vi rendete conto che questi si stanno organizzando il procuratore dicevo che cosa ha detto ci sono dei fenomeni molto gravi in cui questi richiedenti asilo o profughi come la chiamate in quel caso potrebbero formare delle bande il rischio altissimo hai detto niente ma perché stiamo ad importare questa gente me lo spiegate lo so lo so ci sono vari motivi potentati internazionali vogliono l'esercito di riserva vogliono imbastardire la società vogliono creare fratture sociali soprattutto quelli che odiano la nazione perché adesso non posso fare un altro un'altra mezz'ora di discorso proprio su questo argomento però pensate voi no le nazioni diciamo pure tra virgolette mononazionali non avevano grossi problemi interni certo c'erano i problemi economici sociali il lavoro d'accordo però non c'erano grossi problemi interni c'erano le minoranze linguistiche ma sempre confinate in territori ben delineati e proprio questi territori davano l'identità alla popolazione che poi voleva magari o la secessione in un altro stato pure l'indipendenza questi invece immessi in massa come dicono capillarmente solo per creare delle fratture nell'identità complessiva delle nazioni e poiché più o meno arrivano dagli stessi posti no dall'africa dal medio oriente in parte dall'asia il risultato auspicano questi criminali e criminogeni cioè che creano crimine è quello che tra 100 anni la popolazione un po più mulattina un po più marroncina dell'europa visto che i bianchi fanno sempre meno figli questi ne fanno già a bizzeffe l'africa nel 2050 esploderà a 2 miliardi e mezzo di abitanti che quindi l'invasione non è finita o la fermiamo a cannonate parliamoci chiaro o non finirà non finirà probabilmente se perderemo sempre maggiormente potere sempre più africano comunque loro connazionali che avranno vedete la chienge no ad esempio come si comporta favorisce i suoi connazionali è normale ne vorrebbe sempre di più con sempre maggiori diritti vorrebbe che si andassero a prendere con canali regolari perché questi poi è un circolo vizioso questi poi arrivano rappresentano una manovalanza per gli stessi esponenti di spicco della loro etnia che hanno magari la cittadinanza e quindi si buttano in politica e quindi tutta la politica viene sconvolta letteralmente si abbassano le difese perché questi esponenti oramai politici per dare il loro assenso a coalizioni o magari un giorno in proprio addirittura vorranno che le porte dell'immigrazione saranno spalancate per gli stessi motivi per avere sempre più forza e sostegno alla loro base e più sostegno hanno più questo processo in un circolo vizioso andrà avanti quando si fermerà difficile dirlo perché o succede qualcosa che la popolazione africana precipita ma deve essere qualcosa di drammatico e sicuramente molto doloroso soprattutto per i cuori dei buonisti ma non solo per loro oppure semplicemente alla fine prendono il potere come in Sudafrica che Dio ce la mandi buona speriamo che non sarà così nemmeno tra 200 anni e si vive come una minoranza finché dura perché non è bello essere minoranza in uno stato a maggioranza di colore andate a guardare in Africa le varie guerre etre e parlo guerre razziali tra neri tra Bantù tra Vatussi quelli che si chiamano Vatussi o Tuzzi tra Etiopi e Eritrei non sono belle quelle guerre sono guerre che si combattono a colpi di macete e quindi siamo tornati a parlare dell'immigrazione ma questa cosa sarà oggetto di ulteriori approfondimenti questo però volevo dirlo perché mi sono posto la domanda e vi ho posto la domanda perché la facciamo arrivare questa gente i globalisti vogliono che le popolazioni europee perdano la loro identità si meticcino con questi soggetti che arrivando più o meno dagli cioè questi in realtà non sono molto intelligenti questi globalisti perché è vero che sono tutti neri o marroncini però anche loro hanno le loro identità e anche belle forti e adesso magari in alcuni casi sono uniti i senegalesi con i nigeriani che ne so, persino con i pakistani ma anzi, quando possono se le danno di santa ragione è tutta una questione di arrivare ad un punto critico di forza di sostegno che hanno nelle loro basi e poi quando pensano di poter raggiungere uno scopo lo raggiungono e per conto proprio il discorso è complesso ma il fatto è che quando hai a che fare con degli individui il discorso è uno è molto limitato la forza dello stato può valere quando hai a che fare con dei gruppi e beh le cose più il gruppo è grosso e meno più influente più ha agganci magari ha agganci e meno si può agire dicevo perché sono arrivato a parlare di questo perché la Lega ci ha guadagnato è non so quasi decuplicata se pensiamo che aveva il 3% adesso i sondaggi la danno al 24% un governo di servizio come l'hanno chiamato continuerebbe continuerebbe a firmare trattati con l'Europa per perdere sovranità continuerebbe a dare denaro all'Europa ricevendone neanche la metà per cosa poi? per i clandestini hanno tagliato persino i fondi per l'agricoltura per l'Erasmus hanno aumentato generazione Erasmus di cui la signora Mogherini è un elevato rappresentante e lo vediamo quanto sia capace quindi questa Europa è assolutamente non da rifondare è da gettare punto si ritorni all'Europa delle nazioni un'alleanza per carità si evitino le guerre ci sia un mercato comune senza dazzi se possibile ma finito lì che non si debba guardare a Bruxelles per avere il là di cosa la sovranità appartiene al popolo in Italia appartiene al popolo italiano così come in Francia il popolo francese in Germania il popolo tedesco eccetera poi sarà la storia nelle sue convulse agitazioni a dirci se l'Italia rimarrà Italia la Francia rimarrà Francia la Germania rimarrà Germania se i confini rimarranno quelli se l'Alto Agile dovrà rimanere italiano se la se Nizza o la Corsica dovranno rimanere francesi se la Stazia Lorena piuttosto che la Prussia Orientale dovranno tornare tedeschi e via discorrendo di questo passo ma questi sono fatti che solo la storia potrà dirci ora vi saluto e ritorneremo ancora su questo argomento però magari volete prima che vi saluti e chiuda il video dirvi volete sapere come la pensano quando si voterà difficile dirlo perché le cose cambiano da un giorno all'altro secondo me io dico che non si voterà per l'estate ma si voterà per settembre però è solo una mia previsione che potrebbe essere sbagliata ne torneremo a parlare ora vi saluto e grazie per avermi ascoltato che vi saluto a tutti i nostri che vi saluto che vi saluto